La più 5 sulla Roma, intanto stanno impazzando. Siamo solamente alla metà dell'opera, abbiamo fatto un buon girone di andata. Stasera nella partita la squadra ha fatto bene tecnicamente, ha aggredito la partita, ma soprattutto la nota più positiva è quella di non aver preso il gol. Era 6 partite che prendevamo gol e quindi stasera tornare a non prendere gol è molto importante. A luglio quando è arrivato avrebbe pensato di essere stasera a più 5? Credo che la Juventus avesse le qualità per fare una grande stagione, ma sapendo che la Roma e le altre squadre lottavano con noi. Al momento la Roma ci insegue a 5 punti, però il campionato è ancora lungo, bisogna fare tante vittorie per centrare l'obiettivo. Grande prestazione stasera, l'ennesima peraltro di Paul Pogba, sicuramente un ragazzo del futuro d'oro, di Carlitos Tevez, però ci sono delle incognite per il futuro, per la permanenza di questi due campioni alla Juventus. Credo che in questo momento bisogna pensare alla rosa che abbiamo a disposizione, a centrare gli obiettivi finali che sono molto importanti e che in questo momento sono dei giocatori dell'Iventus. Qualcuno vi date?